Seconda puntata del recap del calciomercato, vi ho fatto sapere ieri, no anzi scusate, stamattina nel video dedicato al possibile e probabile rinnovo di Milinkovic, vi ho detto che sarebbe uscito un recap ogni due giorni per accumulare un numero di notizie sensate da poter portare in un unico video. E così è stato fatto, perché uscirà questo recap della giornata di oggi, 9 giugno 2021, ovviamente. Partiamo subito con la difesa, abbiamo una notizia a Gunter, il difensore del Verona 26enne, Pupillo di Juric, sarebbe stato richiesto dallo stesso Juric e il Toro avrebbe fatto un'offerta di 3 milioni di euro. Al momento la risposta sembrerebbe non essere arrivata. Quello che sappiamo però è che è entrata nella trattativa anche la Dynamo Mosca, allenata da Schwarz, che è stato un collaboratore di Juric, no, di Klopp quando allenava il Magonza in Germania. Concorrenza della Dynamo Mosca che è pesante, insomma, il Toro è vero che gioca in Serie A, la Dynamo gioca non in Serie A, gioca in un campionato minore, però il campionato russo comunque, pur essendo a livello inferiore, presenta nelle squadre che giocano a competizioni europee. Gunter potrebbe passare dal Verona alla Dynamo, per cui al momento la trattativa sembra essere in salita e ci saranno aggiornamenti nei giorni futuri. Passiamo alla fascia, passiamo alla fascia. Mi sono reso conto che dopo torneremo a parlare del portiere, per cui poi faremo un giro particolare. Adesso vi spiego. Ola Aina, per quanto riguarda Ola Aina potrebbe scalzare Riccardo Rodriguez e Murru dalla fascia. Aina è tornato, o meglio tornerà, penso, perché ufficialmente il prestito al Fulham non è ancora terminato. Tornerà, il riscatto di 12 milioni e mezzo. Ovviamente non è stato esercitato dal Fulham che è retrocesso in Championship, se non sbaglio. Aina ha fatto anche una discreta stagione. Io mi aspettavo, speravo, più che altro, in qualcosa in più, solo per il semplice fatto di poter ottenere 12 milioni e mezzo. Purtroppo non è stato così. Rimane il fatto che Aina potrebbe interessare a Juric, dipende da cosa gli dimostrerà. Nel caso potrebbe scalzare Riccardo Rodriguez, che non sembra tra i favoriti sulla fascia secondo Juric, e Murru, che quest'anno ha giocato come riserva e l'anno prossimo dovesse rimanere, penso, rimarrebbe ugualmente riserva. Ho detto Riccardo Rodriguez, non ben visto sostanzialmente da Juric, perché Gianpaolo, che costa a bilancio 3 milioni di ingaggio tra lui e il suo staff, sarebbe verso il Sassuolo, diciamo, nelle ultime ore, negli ultimi giorni si è sentita questa voce. Gianpaolo vorrebbe tornare ad allenare e il Sassuolo si sarebbe offerto per offrirgli una panchina. Il Toro vorrebbe chiaramente liberarsi di questo ingaggio che non ha senso di esistere, cioè paga 3 milioni, ma ovviamente, come potete ben immaginare, sono 3 milioni che non servono a nulla. Cioè, Gianpaolo è a casa. No. Il problema, però, l'inghippo sarebbe nel fatto che lo stesso Gianpaolo avrebbe chiesto una buona uscita e il Toro non sembrerebbe disposto ad accettare. Le offerte, le offerte, le cifre della buona uscita non si conoscono al momento. Quello che sappiamo è proprio questo. Il Toro, al momento, non sarebbe disposto ad accettare la trattativa sulla buona uscita. Il Toro, però, insomma, deve cercare di liberarsi di Gianpaolo per non solo il bilancio, l'ingaggio che pesa sul bilancio, ma anche per il fatto che l'allenatore vorrebbe portare con sé, sarebbe, come dire, il piacerebbe portare con sé, non è niente di concreto al momento, ma è chiaro che potrebbe chiamare a sé due suoi... non è che mi sia bloccato perché non trovo il termine, ma perché mi fa ridere quello che so per dire, fedelissimi, che vengono con il nome di Linetti e Rodriguez, come ho detto prima, Rodriguez, che non sarebbe ben visto da Juric, quindi ci sarebbe un collegamento e Rodriguez sarebbe il filo conduttore di questo collegamento, un filo conduttore molto interessante, perché noi tutti vorremmo liberarci di Rodriguez e noi tutti vorremmo liberarci di Linetti. Linetti, in particolare, che peraltro sarebbe inadatto sulla carta al 3-4-2-1 di Juric, quindi esuberi su esuberi, esuberi su esuberi, e sinceramente mai come quest'anno, riflettendo su questo, il Toro dovrà liberarsi di tanta gente. Ho letto, ma non sono molto sicuro, molti tifosi anche dicono che sarebbe meglio operare in uscita per un totale di nove vendite di vari calciatori. si parla di Verdi, si parla di Zazza, si parla di questi due, Aina è in dubbio, si parla eventualmente anche di Belotti, in situazioni in cui i soldi girano poco, io ho disti tempi col senno di poi più facile, però quando valeva 100 milioni tutti erano sicuri che Belotti sarebbe diventato ancora più forte. Purtroppo diciamo che è rimasto su quella linea lì, i prezzi con Belotti si sono abbassati, perdi più tutto ciò se aggiunge il fatto che Belotti l'anno prossimo va in scadenza e quindi... ma comunque, di questo parleremo un'altra volta. Torniamo in difesa, l'estrema difesa e chiudiamo con il portiere. Una piccola notizia su Montipò. Il Benevento avrebbe, diciamo, fissato un prezzo, il valore del cartellino si attesta intorno ai 3 milioni e mezzo, Benevento potrebbe chiederne 6 barra 7 per lasciarlo a andare. L'inghippo sta nel fatto che il Toro vorrebbe però aspettare la decisione di Sirigu, che come Belotti è ad un bivio, rimanere oppure partire. Cosa si intende per aspettare la decisione di Sirigu? Si intende aspettare la fine di Euro 2020 o quantomeno la fine del percorso dell'Italia d'Euro 2020, che speriamo che sia in concomitanza con un risultato positivo in finale, ovviamente. Per cui in casi così si aspetta tutto il tempo del mondo, ma una volta tornato il Toro vorrebbe conoscere la decisione di Sirigu se rimanere e fosse partire. Perché poi, come vi ho anche parlato di questo, ma non vi ho riportato la notizia, diciamo, ve la segnalo giusto così, per chi non avesse letto il video e per chi non avesse guardato il video, si parlerebbe anche di un rinnovo di Milinkovic Savice e di una promozione di Milinkovic Savice stesso a titolare. Lasciam perdere. Voci, voci dappertutto. Al momento poco di concreto, sapete, per questo, peraltro, che ho deciso di far uscire il recap ogni due giorni, perché le notizie sono poche. Quando uscirà, quando arriverà, quando inizierà ufficialmente calciomercato, allora ci saranno sicuramente più notizie e potremo parlare sicuramente di più cose anche in un singolo video al giorno. Io, ragazzi, vi do appuntamento per cui è domani. Non so di cosa parlerò domani, ma di qualcosa parlerò, lo farò e una buona serata, una buona notte a tutti e ciao ragazzi.